Cyber truffatori all'attacco cercano di rubare i dati con gli sms sul green pass clonato. Le truffe tramite l'uso degli smartphone e di internet sono purtroppo all'ordine del giorno e i truffatori ingannano vittime convincendole a dare informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale. In questo caso la nuova truffa sfrutta il messaggio del Ministero della Salute con cui invia al cittadino il link per scaricare il certificato verde e chiede di fare nuovamente l'operazione perché fanno credere al malcapitato che il precedente sia stato clonato. La polizia postale mette in guardia dall'arrivo di sms di questo tipo il cui messaggio di testo sul cellulare apparentemente proviene dal Ministero della Salute e quindi riporta la scritta Min Salute. Il messaggio conterrebbe un link ad un sito malevolo che obbliga a fornire i propri dati bancari. Attenzione quindi, per evitare di cadere nella truffa e subire il furto di dati personali e bancari non si deve aprire assolutamente il link e neppure gli allegati, si deve piuttosto cestinare il messaggio. Se si è stati vittime di truffa online bisogna denunciare l'accaduto alla polizia postale.